Buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti a Cuglia, buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti a Cuglia, benvenuti da mo' Ciao, buongiorno, buongiorno, oggi siamo, guardate che meravigliosa masseria alle mie spalle ma non vi dico niente di più perché questa la vedrete poi a linea verde live Intanto bellissimo perché siamo a due passi da Taranto e stamattina facciamo vigna e tecnologia e quindi capiremo anche che cosa vuol dire l'agricoltura del futuro Guardate che bello Buona giornata